Alle 15 scendono in campo Cittanova e San Cataldese per la seconda giornata del campionato di Serie D. Per i Verdi Amaranto il primo impegno in trasferta della stagione contro una squadra giovane che punta alla salvezza ma da non sottovalutare. Una partita tutt'altro che facile dunque per Maltese e compagni che puntano al risultato pieno per riscattare la sconfitta subita alla prima di campionato contro il Sant'Agata. Così Angelo Galfano, il tecnico del Cittanova, in prossimità del match con la San Cataldese sulla pagina Facebook della società Calabra. Conosco bene la San Cataldese, è una squadra di categoria, è una squadra con giocatori importanti. Ricordiamoci che in Coppa Italia ha fermato il Catania quindi bisogna sicuramente fare una grande prestazione e provare a vincere. Noi abbiamo molto rispetto della San Cataldese così come di tutte le squadre che incontriamo. dovremmo cercare, come ho detto prima, di fare una prestazione sicuramente migliore di quelle che abbiamo fatto ultimamente perché abbiamo le possibilità di farle, abbiamo lavorato abbastanza bene. Quindi mi aspetto proprio da ragazzi una grande prestazione. Grazie a tutti. Grazie mille. Ciao. Ciao.